Si sbloccano i cantieri, ma le imprese non bastano. L'avvertimento dei costruttori della provincia di Lucca all'indomani dell'approvazione del nuovo codice appalti che dovrebbe velocizzare la procedura di gara per i grandi cantieri. Al Via Verdemura, con oltre 170 espositori, aperta fino a domenica sui valuardi San Regolo e La Libertà, la mostra mercato dedicata al giardinaggio con un ricco programma di appuntamenti. Il tour di Gianni Morandi approda la fortezza di Montalfonso dopo Sanremo in veste di co-conduttore. Il cantante si esibirà per la prima volta nella location di Castelnuovo il 2 agosto, biglietti in vendita da lunedì 3 aprile. Lucchese da battaglia al Manuzzi di Cesena. Inizia sabato sul campo dei Romagnoli il terribile ciclo di ferro dei Rossoneri. Maraia recupera Tumbarello e Bruzzaniti. All'andata la Lucchese si impose con una zampata rete di Mimo Franco. Bama non fa magie, play-off più lontani. Rosa Blues confitti in casa, 76-87, da un arcigno mens sana a Siena, nonostante le ottime prove di Salazar, Ebbini e Nabulele. Ora, dopo la breve sosta pasquale, andranno vinte tutte. Ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Lo avete sentito anche dei nostri titoli di apertura. In primo piano il nuovo codice sblocca appalti con la soddisfazione dei costruttori in provincia di Lucca che però avvertono le imprese non basteranno. Partiamo da qua. Il 2022 ha visto la provincia di Lucca maglia nera in Toscana per appalti pubblici. Numeri invece in crescita per la vicina Massa Carrara. Lo rivela il rapporto annuale di Ance Toscana, l'associazione dei costruttori, che mostra a Lucca una riduzione del 30% del numero di gare e del 18% del loro importo, 93 bandi per un valore di 126 milioni di euro. La provincia poana ha invece segnato una crescita del 3,3% di contratti e soprattutto un raddoppio dell'importo arrivando a 126 milioni. I costruttori lucchesi vedono nel nuovo codice degli appalti, appena varato dal governo e oggetto di forte dibattito, un'occasione per sbloccare molti cantieri e accelerare le future procedure, grazie in particolare all'innalzamento del tetto per gli affidamenti diretti, ai maggiori poteri dati ai comuni e al taglio di vari passaggi burocratici. Molte istanze, sia del Lanci che del Lance, sono state recepite nel nuovo codice. È un tentativo per sburocratizzare un settore dei lavori pubblici che se non sburocratizzato non riuscirà ad eseguire tutte le opere pubbliche, soprattutto ora che abbiamo la possibilità in tutta Italia di usufruire dei fondi del PNRR. Non ci saranno imprese per fare tutti questi lavori e possibilmente trovarle sul territorio invece di sceglierle a caso. Difficile dire sul territorio quanti cantieri si sbloccherebbero. La provincia di Lucca come stazione unica appaltante, che serve però appena a sei comuni, Frappiana e Versilia, conta 20 procedure aggiudicate negli ultimi due anni e 11 gare in corso. Ma è falso dire, secondo Varia, che con il nuovo codice non ci sarebbero più gare. Ma ci sarà la facoltà, come c'è stata negli ultimi tre anni, di far sì che le amministrazioni pubbliche scelgano un minimo di 10 o 20 imprese per partecipare a una gara, ma gara si sarà. Non ci saranno più le gare fatte a caso, non ci saranno più fortunatamente imprese sorteggiate per partecipare alla gara, che è stata una delle vergogne più grandi, suffragata anche dall'autorità di vigilanza, in questo ultimo periodo. E veniamo alla cronaca, una squadra di vigili del fuoco della centrale di Lucca è intervenuta in via di Valgiano, all'altezza del cimitero di Valgiano, a Segrominio e Monte, per soccorrere ed estrarre una persona da un'auto dopo un incidente avvenuto intorno alle 22 di giovedì. La vettura era uscita dalla sede stradale, aveva urtato il muro perimetrale di un'abitazione. All'interno era presente una persona rimasta ferita. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarla, a fidarla ai sanitari della misericordia di Marlia, che hanno provveduto al trasporto in ospedale. Sul posto anche un'automedica e i carabinieri per le rispettive competenze. Ordigni bellici tra gli scavi delle fognature. Con un'ordinanza è stata interdetta l'area del cantiere di via Aurelia Sud, al Varignano, all'altezza del Fienile, dove la scorsa settimana sono stati rinvenuti durante gli scavi tre ordigni bellici. Il provvedimento firmato dal sindaco impone il divieto di avvicinamento alla zona del cantiere, nel frattempo recintato, e la sospensione immediata dei lavori. Si tratta di opere per la realizzazione di una nuova fognatura da parte di Gaia. Passiamo alla politica. In questi giorni l'ex capogruppo PD in Senato, Andrea Marcucci, ha evidenziato come il Partito Democratico stia in qualche modo cambiando pelle. Sentiamo le sue riflessioni nell'intervista che ci ha rilasciato. Salve senatore. Dunque, dopo la vittoria delle primarie da parte di Elislein, il PD ha preso una piega decisamente a sinistra, peraltro strizzando anche l'occhio ai grillini. La prima domanda che le faccio è il PD, così come era nato tra i soci fondatori, esiste ancora? Il PD è stato un grande progetto per mettere insieme tutti i migliori riformismi del nostro paese e lanciarli verso il futuro. Ha un programma diverso, ambizioso, progressista e riformista. Oggi, certamente, grazie al voto popolare, ha avuto una svolta, una svolta che guarda molto a sinistra, molto competitivo con il Movimento 5 Stelle. Questa può essere anche una cosa buona, ma è un progetto, secondo me, molto diverso rispetto a quello iniziale. Allora, quale futuro dobbiamo aspettarci per un liberale come lei, sempre rimasto ancorato anche al riformismo? Oggettivamente, ho dato gran parte della mia vita politica a questo progetto, al progetto del PD, rappresentando un motore culturale, un motore politico, una storia che è quella della liberal democrazia, quella dei diritti, quella dello sviluppo, quella di mettere insieme le esigenze della distribuzione della ricchezza con le esigenze dello sviluppo. Oggi questi temi e questo tipo di apporto non mi sembra interessi al Partito Democratico, lo ha dimostrato la Schlein con le scelte che sta facendo, lo ha dimostrato il Partito Toscano, lo stanno dimostrando le prese di posizione. Quindi bisogna avere il coraggio di guardarsi intorno e di capire come si può continuare una battaglia politica nel contesto politico che è davanti a noi. Lei è un punto di riferimento per molti sindaci e dirigenti politici della nostra provincia. Una sua eventuale decisione di lasciare definitivamente il PD potrebbe, secondo lei, influire anche sulla politica locale? In questi anni è nata e cresciuta una classe dirigente di buonissimi amministratori all'interno del Partito Democratico. Ognuno di loro è capace, è autonomo, è indipendente, farà le proprie scelte. Ovviamente con valutazioni soggettive e politiche. Io credo che questo sia la bellezza della politica. Ognuno potrà scegliere cosa fare nell'interesse del proprio territorio e delle proprie comunità. Ed ha preso il via la 14esima edizione di Verdemura fino a domenica tra i baluardi San Regolo e la Libertà. 170 espositori nazionali ed esteri e poi un ricco programma di appuntamenti. Taglio del nastro per la 14esima edizione di Verdemura. La mostra a mercato dedicata al giardinaggio e alla vita all'aria aperta fino alla prossima domenica sarà sulle mura di Lucca con 170 espositori e un ricco programma di appuntamenti e mostre. Tra queste, grande protagonista la camelia, in esposizione nei sotterranei del baluardo San Regolo con centinaia di fiori recisi. Poi la buganville, a pianta brasiliana diffusa oggi in tutto il Mediterraneo con la sua incredibile tavolozza cromatica. Infine, il lavoro dei grandi ibridatori di rose con le varietà screziate dedicate ai pittori impressionisti. Centinaia di fiori, piante e arbusti, ma anche attrezzi, arredi per esterni e prodotti artigianali di eccellenza. Ecco il secondo appuntamento della Lucca Crea Week. Collezionando, che è finita domenica scorsa, al Polo Fiera è stato un grande successo di pubblica e di critica e subito, dopo sei giorni, parte Verde Mura. Un connubio che apre la grande stagione degli eventi in città. La Lucca Crea Week lancia, con quel refrain, Spring is coming, un po' alla Game of Thrones, il momento della cultura, della cultura umanistica, con cui prendersi cura della nostra anima e Verde Mura, che ci deve insegnare a prendersi cura dei nostri ambienti, dei nostri giardini, tempi anche loro della nostra anima, e per chi sa, anche dei nostri terrazzi. Largo spazio ai giovani, tante le attività dedicate alle scuole, tanta gratità, quindi un luogo per famiglie per cominciare a coltivare una primavera del benessere a partire dai propri spazi domestici. Nei giorni della manifestazione, con il biglietto di Verde Mura, sarà possibile accedere anche all'orto botanico e agli attigui giardini della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Lutto a Lucca per la scomparsa all'età di 70 anni dell'ex direttore dell'Urologia di Lucca, Giorgio Santelli. In pensione da appena tre anni, a esprimere il cordoglio alla famiglia, sono la direzione aziendale dell'azienda USLE Toscana Nord-Ovest, la direzione del presidio ospedaliero di Lucca e tutti gli ex colleghi. Andiamo a Borgo a Mozzano. La provincia ha inaugurato quattro nuove aule all'ITI Ferrari. Taglio del nastro per l'apertura di quattro nuove aule che vanno così a completare il moderno plesso scolastico ITI Ferrari di Borgo a Mozzano. Una bella cerimonia ha salutato questa nuova parte dell'Istituto Chimico con la realizzazione di una nuova parte del plesso costruita sopra i laboratori chimici. Le aule moderne e funzionali permetteranno così di ospitare anche quelle classi che per motivi di spazio erano in sede di staccate. La nostra scuola è una scuola in crescita, con le iscrizioni che aumentano di anno in anno, c'è un grande interesse da parte dell'utenza della popolazione scolastica. In questo modo possiamo chiudere finalmente la succursale con le nostre tre classi e riunirci tutti qua. Quindi siamo veramente felici di inaugurare questa nuova ala stamattina. La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali, dove il sindaco Patrizio Andriuccetti ha ringraziato più volte la provincia per l'attenzione mostrata in questi anni nei confronti di questo plesso scolastico che ricordiamo fa parte dell'Istituto Superiore dell'ISI Barga. Costo complessivo dell'operazione 580.000 euro, di cui 400 provenienti dalla regione toscana e restante da risorse dell'amministrazione provinciale. Una scuola che sta crescendo, che aveva bisogno di nuovi laboratori, che aveva bisogno di migliorare quella che è la sicurezza e grazie a un finanziamento della provincia e della regione toscana questo è stato possibile. Quindi continuiamo il percorso di miglioramento della qualità delle nostre scuole superiori sul territorio proprio per permettere ai ragazzi di stare scuole sicure, scuole belle e di poter apprendere i mestieri del futuro. Mercoledì 2 agosto Gianni Morandi sarà in concerto per la prima volta in Garfagnana, alla fortezza di Montalfonso, nell'ambito del festival Montalfonso Sotto le Stelle, festival che tra luglio e agosto porterà musica e spettacoli in antiche fortezze e scenari naturali delle Alpi Apoane dell'Appennino Tosco Emiliano. Biglietti in vendita da partire da lunedì 3 aprile. Andiamo a Viareggio, caos la mattina all'entrata dei bambini alle scuole del comprensivo Viani Marco Polo. Nei giorni scorsi la municipale aveva elevato varie multe per i veicoli in divieto di sosta. Oggi i genitori chiedono al comune di ripristinare il servizio scuolabus, come già promesso negli anni scorsi. Auto in doppia fila, code ingorghi in mezzo al quartiere residenziale del Marco Polo. Succede ogni giorno all'uscita e soprattutto all'entrata delle scuole materne, elementari e medie di Via Pistoia, frequentate da circa 800 alunni, dove ogni giorno si riversano genitori e nonni. Un caos che ha portato nei giorni scorsi la polizia municipale di Viareggio a intervenire elevando varie sanzioni per ristabilire un po' d'ordine. Ma adesso le famiglie insorgono, chiedendo al comune di ripristinare il servizio scuolabus, cancellato nel 2014 per effetto del dissesto e mai reintrodotto. Quello che sosteniamo noi è intanto adottare un sistema di trasporto pubblico scolastico che garantisca anche l'arrivo puntuale a scuola, ma soprattutto un servizio che possa essere ecosostenibile per la città, che possa trascinare le persone e essere più socialmente unite insieme. Il trasporto pubblico scolastico laddove ripristinato andrebbe a incidere anche sulla sicurezza dei bambini all'entrata. Effettivamente qui i genitori quando arrivano non possono che parcheggiare anche un po' in maniera selvaggia. Nel novembre del 2021 l'assessore Sandra May aveva annunciato l'arrivo di tre scuola bus elettrici per le uscite didattiche per il trasporto, seguiti da altri quattro mezzi per completare il servizio, che doveva ripartire a settembre 2022. Al momento tutto sembra però fermo, ma va detto che quello dei pulmini è un servizio dei costi non indifferenti per il comune, del quale a Viereggio, già prima del dissesto, usufruiva un numero relativamente limitato di famiglie, anche in virtù della distribuzione delle scuole che si trovano per lo più in ogni quartiere della città. Terzo appuntamento invernale dell'Augusta, la fortezza delle idee, festival culturale pratorcinato dal comune di Lucca. Una serata di grande spessore giornalistico con la presenza di Tony Capozzo, già vice direttore del TG5, autore e conduttore della trasmissione Terra ed edito realista per diverse testate giornalistiche e Francesco Borgonovo, vice direttore del quotidiano La Verità e membro del comitato d'onore dell'Augusta. Attraverso la presentazione del libro di Borgonovo, Inquisizione, cronache dal delirio sanitario e quello di Capozzo, giorni di guerra, il parterre, di fronte a un folto pubblico, ha comunque affrontato più in generale la centralità del ruolo della comunicazione in questa complessa fase storica. Adesso ci occupiamo del vino toscano presente al Vini Italy. Il vino toscano al Vini Italy con l'export ha primato. La crescita del settore principe e dell'economia agricola regionale va di pari passo con il grande successo delle sue etichette e dei vini a denominazione all'estero. In dieci anni le esportazioni dei vini nostrani sono cresciute del 78%, toccando nel 2022 la cifra record di 1,2 miliardi di euro, più di un terzo del totale del valore di tutti i prodotti del Made in Tuscan agricolo ed agroalimentare venduti oltre i confini nazionali. Il vino si conferma il prodotto più esportato ed il più amato del paniere regionale con il 74% delle bottiglie spediti nei paesi extraeuropei su tutti i Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Giappone e Cina. A dirlo è Vigneto Toscana, l'associazione dei viticoltori di Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi alle esportazioni nell'ultimo decennio in vista della prossima edizione del Vini Italy in agenda dal 2 al 5 aprile a Verona. L'ascesa dei vini all'estero è stata progressiva e costante nel tempo, passando dai poco meno di 500 mila euro del 2003 agli attuali 1,251 milioni di euro con un incremento del 174%. Solo nell'ultimo anno il volume di affari è aumentato di 118 milioni di euro, più 10,4. Il vino toscano riesce, come nessun altro prodotto enologico, a veicolare un messaggio di paesaggi, arte, cultura e sostenibilità, spiega Letizia Cesani, vicepresidente Vigneto Toscana. Elementi, conclude, che ne fanno un prodotto di straordinario successo, apprezzatissimo all'estero. E con questa notizia chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per una breve pausa e poi la nostra pagina sportiva.